Bella ragazzi, eccoci qui in un nuovo video di Fortnite. Raga, siamo qui perché puntuali ragazzi, puntualissimi direi, perché sono appena uscite le sfide della settimana 5, raga. Adesso, in questo preciso momento, ho aspettato fino all'ultimo secondo che uscissero ed eccole qua, raga. Oggi, come avete letto dal titolo, vi farò vedere la stella della settimana 5, raga. Cioè, seguo la mappa del tesoro trovata a Spaggernob. Raga, andiamo subito in game e si trova a Montagnoli, raga. Questo già ve lo spoilerò. Ci vediamo in game, ma prima sigla, raga. Ok, raga, ci siamo. Diciamo che non siamo proprio nel punto in cui volevamo. Però, raga, comunque Montagnoli è qua, quindi noi ci buttiamo. Avviamo la corsa automatica. E, raga, praticamente si troverà esattamente su questo palazzo, raga. Esattamente qui. Ok, raga, sono sceso qua per prendere un po' di materiali. Ok, raga, andiamo a Montagnoli. 59 di lì, intanto ci serve solo per salire. Ecco, raga, si troverà esattamente su questo palazzo. Eccola qua, raga. Questo, raga, è il punto. Lì ce n'è uno, quindi prendo la stella. Perfetto. Quindi, io spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete like. Mettete like per questo video, praticamente, quasi da anteprima. Siamo soliti di livello, perfetto. Quindi, raga, abbiamo completato. Segui la babba del tesoro, trovate a spiaggere snob. Io spero che il video vi sia piaciuto. Quindi, mi ricordo, raga, che si trova a Montagnoli Maledette, di fianco al palazzo centrale, praticamente, alla chiesa, diciamo. E quindi, raga, io spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete like. Un saluto da Lucius. E ci vediamo, o oggi, o domani, col video della stella segreta, della signora 5. Bella, ragazzi. Ciao.